Praticamente è fatta per Arnautovic 10 milioni al Bologna e Arnautovic è un nuovo giocatore dell'Inter. Dicono tutti, lo dice anche la pagina ufficiale dell'Inter, praticamente di Twitter e mi stavano animando le ultime cose e a quanto pare Sensi andrà al Bologna. La mattinata di ieri avevo detto dell'inserimento di Chukumatinga, Arnautovic era già nei pensieri di Marotta a quanto pare e quindi Marco Arnautovic sbarca a Milano, dovrebbe sbarcare a Milano oggi stesso o domani per le episodi mediche. A tutti gli effetti è un giocatore dell'Inter, a Milano. Fatemelo sapere la vostra qui sotto nei commenti. Se ecco Giovedo che fa doppia cifra in campionato, beh io me lo prendo tranquillamente e non fiato, però deve essere, deve fare da chi ha il Chukumatinga, questo bel marconi di Norwich. E attenzione a Correa, vediamo se uscirà, si proverà a prendere anche un quarto attaccante, solo se uscirà Correa. Però il terzo attaccante è arrivato, dovrebbe essere ufficiale, praticamente vicino. Fatemi sapere la vostra, e qui da me è tutto. Non riesco a dormire, e allora ho detto facciamo un video, e via. Bye.